Rings of Power, episodio 3, il mistero della Terra di Mezzo continua. Wobalaba daddabe, bentornati su una mamma mazzo, bentornati nella rubrica serie tv e nella rubrica fantasy. Continuiamo a parlare della serie tv tanto sulla bocca di tutti del Signore degli Anelli, dello spin-off, prequel del Signore degli Anelli, liberamente ispirato a quella zona grigia che è la seconda era della Terra di Mezzo in cui vediamo un po' svilupparsi la seconda ascesa di Sauron al potere con la costruzione appunto degli Anelli del Potere. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un anello e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo episodio o di questa serie in generale e scrivetemi cosa ne pensate di questo review bombing, fino a che punto non siete d'accordo con le scelte di casting di questa serie tv e se però trovate in ogni caso aberrante il fatto che delle review bombing in un certo senso rischino di impedirci la continuazione della visione di questa storia. Seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram, Twitch dove stasera faremo una live a tema fumetto insieme a Dili dell'altro fumetto, insieme a Curo del canale di Curo e a Umberto di Pelati e Fumetti in cui ci chiacchiereremo un po' insieme su quello che abbiamo letto quest'estate. Fateci compagnia, diteci anche voi cosa avete letto quest'estate. Seguitemi anche su TikTok dove sto iniziando a fare delle mini recensioni di un minuto e dove vi dico già che dove vedo che il video ha poca presa in questo canale smetterò di fare le recensioni lunghe, sì anche senza virgolette sono lunghe lo so e farò solo quelle di un minuto anche su YouTube quindi quelle che farò su TikTok le trasferirò anche su YouTube quantomeno in questo periodo che c'è tantissima roba da recensire quindi da qualche parte devo tirare le briglie del mio cavallo. Anche in questo episodio ci sono tre trame differenti a differenza magari dei primi due episodi dove erano più intrecciate e qua vediamo distintamente prima tutta la storia di Galadriel e del suo compagno di naufragio umano o comunque delle terre del sud scopriamo poi vediamo la storia dell'elfo che è stato rapito scopriamo anche insieme ad altri elfi dagli orchi e infine, solo infine, vediamo la storia dei pelopiedi che francamente non ricordo perché perché comunque la serie ci ha dato tante tante informazioni settimana scorsa non ricordo, scrivetemelo voi, perché devono migrare questa cosa mi sfugge un attimino. Comunque è interessante questa differenza tra gli hobbit pelopiedi e gli hobbit della terza era che invece l'idea stessa di migrare, di togliersi da casa loro poteva essere traumatizzante il fatto stesso che Bilbo compie un viaggio fuori dalla contea è la cosa più avventurosa del mondo per un hobbit della terza era qua invece vediamo che è un popolo nomade fondamentalmente che migra e questo spiega anche molte delle loro abitudini vediamo come mai sono più legati magari agli alberi al non scavare delle buche per abitazione rispetto agli hobbit della terza era questa cosa è molto bella come l'hanno spiegata hanno spiegato anche perché la mamma di Nori è di un'etnia diversa da quella della figlia e perché il padre si è risposato fondamentalmente quindi iniziano a spiegare un po' tutta la cosa è molto molto interessante come stiano curando bene tutti i dettagli però devo dire che la parte degli hobbit è stata quella che forse mi ha interessato meno hanno finalmente scoperto il segreto del Meteor Man e mi riferisco al fatto che era tenuto segreto da Nori non al fatto che scappiamo chi è non può essere Gandalf seguendo la storia del libro perché Gandalf arriva solo nella terza era nella terra di mezzo arriva non con una meteora ma arriva in barca non potrebbe essere nemmeno Sauron che era l'altro mio sospetto perché in teoria anche Sauron dovrebbe arrivare all'inizio sempre della terza era non può essere Tom Bombadil perché in teoria Tom Bombadil a quanto dice lui c'è da sempre quindi ci dovrebbe essere da prima della prima era non sappiamo bene chi è io escludo che sia Sauron anche perché Sauron non dovrebbe essersene mai andato dalla terra di mezzo semplicemente dovrebbe aver cambiato forma io ho visto si è visto nell'episodio scorso una figura molto algida con il capello biondo platinato corto e le orecchie a punta sembra quasi un elfo ma ha questo eyeliner sotto gli occhi e questo sguardo cubo che fa capire a noi spettatori ignoranti che è cattivo e presumo che quello potrebbe essere la nuova incarnazione o meglio il nuovo aspetto di Sauron dal momento che Sauron riesce a cambiare aspetto e dal momento che Sauron dovrebbe camuffarsi in questo periodo storico nei panni di un elfo e diventare consigliere a Númenor è per mettere gli uomini e gli elfi gli uni contro gli altri potrebbe essere quel personaggio lì oppure potrebbe essere un personaggio che ancora non abbiamo visto ma che vedremo nell'ambientazione di Númenor salta fuori invece un altro nome nella trama degli elfi schiavizzati dagli orchi scopriamo anche perché sono schiavizzati proprio gli elfi dagli orchi perché innanzitutto sono forti quanto gli orchi quindi sono più forti degli esseri umani e a differenza degli orchi riescono a resistere alla luce vi ricordo che questi non sono orchi potenziati da Saruman non sono Uruk-hai sono orchi della seconda era e il sole gli dà veramente tanto fastidio vediamo che iniziano quasi a bruciare non sono vampiri non vanno in cenere ma gli dà molto fastidio al punto che si devono rintanare sottoterra questi orchi in un certo senso venerano o comunque seguono questo Adar che non si sa chi è pare sia un personaggio inventato appositamente per la serie ma che gli elfi insinuano potrebbe essere uno dei tanti nomi di Sauron io onestamente non credo che sia Sauron in persona io credo che Sauron sia ben da altre parti potrebbe essere semplicemente un seguace di Sauron potrebbe essere, non lo so, qualche... non credo sia un re umano dal momento che in teoria i Nazgul verranno corrotti dagli anelli successivamente alla loro formazione alla loro forgia? forgiazione? non lo so quindi potrebbe essere semplicemente un seguace di Sauron o un elfo scuro vedremo sarebbe interessante vedere una cosa del genere la cosa bella di tutta la scena con gli orchi è proprio vedere la differenza culturale tra gli elfi e gli orchi che vi ricordo in questo contesto tolkeniano sono elfi che sono stati in passato torturati, mutilati da Melkor per asservirlo e quindi sono in un certo senso elfi deviati anche loro inconsapevoli probabilmente delle proprie origini il fatto sta che vediamo anche la differenza culturale nella cura delle cose vive vediamo come gli elfi non riescono assolutamente a sradicare un albero non ne hanno il cuore per farlo sarebbe come per un essere umano un essere umano con una coscienza uccidere un cucciolo di cagnolino senza motivo solo per poter passare invece di farsi il giro attorno ecco loro hanno questo tipo di amore verso l'albero perché è una cosa viva mentre gli orchi se ne sbattono altamente le balle mi piace vedere questa dicotomia tra i due pensieri uno dei due pensieri che è quello che domina un po' anche tutto il discorso tolkeniano specialmente nella saga cinematografica di Jackson dove il nemico, diciamo, dei buoni il nemico della natura, delle cose che crescono è la costruzione, come si dice, senza remore senza cura dell'ambiente circostante da parte di Saruman, degli orchi che distruggono tutto, distruggono gli alberi provocando appunto l'ira degli Ent nel finale delle due torri ecco, se vogliamo Il Signore degli Anelli è un precursore dei film a tema ambientalista e forse quello che lo tratta questo tema lo tratta nel modo più meno spiattellato possibile molto delicato una cosa che va sotto pelle può veramente dare un bel messaggio questa cosa è una cosa che ho sempre apprezzato di questa saga ho sentito dire da molte persone che questa saga l'hanno trovata noiosa l'hanno trovata lenta molto probabilmente non sono abituati ai ritmi tolkeniani anch'io quando vidi la prima volta La Compagnia dell'Anello soprattutto la prima parte quella cinematografica la trovai molto molto lenta e poi ci si abitua fondamentalmente devo dire che forse per me che sono già abituato a questo stile non l'ho trovata assolutamente lenta anzi ho trovato che si prenda il suo tempo l'ho trovata molto interessante e anche se in questo episodio si percepisce molto di più il fatto che stanno centellinando le informazioni per tenerci sulle spine non trovo la cosa come sinonimo di lentezza ecco sto apprezzando davvero tanto spero che apprezzino anche altre persone ma riconosco che ci sono persone che sono state abituate diversamente dalle altre serie tv che vanno per la maggiore sui canali streaming come Netflix e similari però in video medesimo quindi ci può stare io spero davvero che possano apprezzare questa serie ma francamente per me l'importante è che la apprezzino i fan che è la cosa migliore se poi si guadagnano nuovi fan benvenga fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio se notate ho cercato di fare un'osservazione senza fare troppi spoiler senza fare riassunti perché mi auguro che la guardiate la serie e non che la la pendiate dalle mie labbra io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video che sarà breve che sarà lungo ai posteri la tua sentenza arrivederci